Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività dell'organo legislativo regionale. Il Consiglio regionale che si è riunito in settimana per discutere dell'informativa di indirizzo al piano dei rifiuti, ma le opposizioni, dopo una richiesta di sospensiva non concessa, hanno deciso tutti all'unanimità di lasciare l'aula. Si è aperta con un colpo di scena la seduta del Consiglio regionale dedicata all'informativa della Giunta sul piano regionale su rifiuti e bonifiche. I gruppi di opposizione, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani hanno abbandonato l'aula prima che l'assessore Monia Monni presentasse l'informativa. A fare l'annuncio, a nome delle opposizioni e a motivare la scelta, il consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui, rispetto a 15 giorni fa, ci era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri, prima del Consiglio, il segretario generale in conferenza dei capi gruppo ha detto che, rispetto alle previsioni dell'articolo 48, i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo, il Partito Democratico ha voluto andare avanti, spinto da una delibera del Presidente Gianni che, bontà sua, ha ritenuto di superare l'eccezione e i rilievi anche del segretario generale, dicendo sostanzialmente loro hanno ragione e non ritengono, visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura, di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura. Invece il Presidente Gianni lo ha ribadito ieri in aula, lo ha ribadito di fronte alle telecamere, considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione gravissima che ne è derivata, con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio, è che il parere del segretario generale, che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio, sono state derubricate a autorevole opinioni, facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Si tratta di un ribaltamento dei rapporti di forza tra Giunta e Consiglio che per le opposizioni è inaccettabile e per questo motivo oggi abbiamo deciso di abbandonare l'Aula rispetto alla discussione complessiva del piano dei rifiuti, chiedendo al Presidente del Consiglio che naturalmente tuteli le minoranze, ma tuteli il ruolo stesso del Consiglio rispetto alla Giunta. Nei prossimi giorni valuteremo anche tecnicamente, anche giuridicamente, eventuali ulteriori nuove iniziative. Il dibattito in aula è comunque andato avanti e è arrivato il via libera da parte dell'Aula di Palazzo Pegaso. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza a favore Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Toscana Domani, Contrari, Partito Democratico e Italia Viva, la questione pregiudiziale e successivamente la richiesta di sospensiva sollevate in merito all'informativa della Giunta sul piano dei rifiuti del Consigliere Alessandro Capecchi. L'informativa che la Giunta fa in questo caso obbligatoriamente al Consiglio perché la legge 1 del 2015 ha stabilito che per il piano dei rifiuti l'informativa è obbligatoria ai fini di raccogliere gli indirizzi del Consiglio stesso deve avvenire prima dell'avvio formale della procedura. In questo caso invece cosa è successo? Che la Giunta, per ragioni di tempo e applicando un regolamento che si è data nel 2019, ha contestualmente all'invio dell'informativa in Consiglio attivato formalmente la procedura, cioè facendo l'avvio del procedimento e l'avvio della procedura di VAS. In questo caso quindi che cosa succede? Che se anche oggi il Consiglio avesse dato o desse degli indirizzi parzialmente difformi, in realtà tutto il materiale della VAS e dell'avvio del procedimento è già pubblicato da due mesi. Quindi noi abbiamo contestato anche l'interpretazione degli uffici della Giunta che dicono che in questa fase invece tutti i contributi che arrivano via via potrebbero arricchire il percorso documentale. Il voto si è svolto in modalità digitale ed è stata la prima volta in cui il Consiglio ha usato la nuova piattaforma di voto digitale. Il nuovo sistema di voto permette di partecipare ai lavori dell'Assemblea in presenza e da remoto. Tutte le tipologie di voto sono gestite in maniera sicura e flessibile. Dobbiamo ridurre fortemente il conferimento in discarica e questo lo si fa aumentando la raccolta differenziata e investendo sulle nuove tecnologie. Questa è la sfida vera, quindi il nostro sarà un piano sicuramente ambizioso, impegnativo, partecipato come ha detto l'assessora e per questo diciamo siamo ovviamente attoniti dal fatto che l'opposizione abbia preferito invece di entrare nel merito della discussione trincerarsi dietro una sterile propaganda, evidentemente perché assente di argomentazioni concrete. Ne prendiamo atto, aspettiamo gli appuntamenti successivi affinché anche loro portino qualche idea. Fino ad oggi le uniche che ho sentito dire parlano di un termo valorizzatore per ogni provincia e non dicono nulla rispetto alla raccolta differenziata e al sistema delle discariche. Quindi aspettiamo davvero di poterci confrontare con loro ma non aspetteremo in eterno perché il PD è una forza responsabile e vorrà lavorare per dare risposte anzi in un tempo molto breve, il più breve che sia consentito. L'opposizione non fa la parte dello zerbino della Giunta e quindi qui bisogna essere chiari. O ci danno delle informazioni, ci danno dei dati, ci danno qualcosa su cui lavorare o altrimenti noi ad oggi non possiamo dire quali sono le azioni che faremo ma sicuramente contrasteremo il piano dei rifiuti fino in fondo come è già successo nella scorsa legislatura con la riforma della sanità e come succede spesso con le grandi riforme. Attenzione, il piano rifiuti è in ritardo, rischiamo di andare in procedura di infrazione perché il PD lo doveva già emanare la scorsa legislatura. Quindi la colpa dei ritardi ricadrà sui cittadini e ancora una volta oggi si fanno delle forzature ma non si arriva a voler collaborare a fare il bene dei toscani. Sul piano dei rifiuti, cioè sulla pianificazione strategica, urbanistica, quasi più importante della regione toscana, il PD discute da solo. Ma discute talmente da solo che esiste un tema del tutto politico che per la prima volta dopo un anno la Giunta ha messo una questione di fiducia. Ha detto ai consiglieri del PD, a prescindere da quello che il segretario generale vi ha detto, cioè che esiste molto probabilmente una fondatezza giuridica sulla pregiudiziale, dovete votare questo atto. Dovete venire oggi in aula e votare l'atto della Giunta perché se così non fate si va tutti a casa. Voto contrario alla pregiudiziale ed Italia Viva. La transizione energetica deve essere un elemento portante, il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Elisa Tozzi per il gruppo misto Toscana Domani rivendica le legittime istanze e attività dell'opposizione senza alcun tentativo di ostruzionismo. In realtà qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali che non sono delle comparse in questo momento ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa colpi di atti della Giunta che tra l'altro presentano anche profili di legittimità. Non è possibile fare governance su questioni come quella dei rifiuti senza parlarne, sono argomenti questi che devono essere dibattuti, devono mettere nelle condizioni tutta la rappresentanza espressa dal corpo elettorale di questa regione di prendere decisioni che interessano il proprio presente e il proprio futuro. Al momento non ci siamo, non ci siamo più, per questo siamo usciti dall'aula e nonostante il nostro impegno istituzionale in questo primo anno e mezzo costruttivo e propositivo ci sentiamo anche veramente non rispettati. Inizia il vero lavoro in collaborazione con l'assessore Monni, la commissione quarta che presiedo sarà la sede nel quale ci confronteremo con chi proporrà impianti, con gli ato, con i gestori, con tutti i soggetti che avranno attraverso la commissione la possibilità di dar voce rispetto alle osservazioni di questo piano. Rappresentiamo i territori, rappresentiamo i cittadini, rappresentiamo le imprese quindi è risultato stamani anche un po' strano a tutti, forse perché non conoscono ancora bene il ruolo del consigliere regionale e l'atteggiamento delle minoranze. Hanno abdicato al ruolo di fare proposte e di porre correttivi, questo secondo noi è abbastanza grave, spero che in commissione con loro, con le minoranze presenti, cambi un po' il clima e anche loro che vengono da territori molto complessi diano il proprio contributo. Noi lo faremo, l'abbiamo sempre fatto, insieme all'assessore Monni e alla Giunta porteremo le stanze di cittadini, La copogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha annunciato il voto favorevole all'accoglimento della pregiudiziale. Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia ha posizioni molto diverse su rifiuti, ma sappiate che quegli anni di indirizzo che noi avremmo presentato sarebbero stati carta straccia, perché in realtà gli indirizzi sono già stati dati nel momento in cui sono stati presentati i bandi, già da mesi, quindi significa che adesso noi siamo ridotti, non soltanto denigrati dal punto di vista della dignità per cui la Giunta ci dice cosa dobbiamo fare e come, ma addirittura quello che presentiamo è carta straccia, siamo dei passacarte per la Giunta e questo è inaccettabile anche dal punto di vista della dignità e del rispetto delle persone che fuori si aspettano che in questo consesso siano illustrate e siano portate avanti delle iniziative che avranno effetti reali. Non ci sarà nessun effetto reale per il modo in cui è stato portato avanti, quindi il nostro punto di vista è tecnico, politico innanzitutto. Dal punto di vista dei contenuti poi ci riserveremo di fare tutte le nostre osservazioni quando sarà riportato nel giusto binario questo percorso legislativo. evitare lo spopolamento delle aree periferiche e montane della nostra regione è l'obiettivo del progetto di legge regionale dedicato proprio alla montagna. Il dibattito in aula relativo alla legge regionale a sostegno delle aree montane illustrate dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Ilaria Bugetti ha visto l'approvazione a larga maggioranza con il voto contrario di Forza Italia. Prevedere misure specifiche per i soggetti che vogliono avviare un'attività produttiva o riorganizzarne una esistente nei territori dei comuni montani e dare incentivi economici per svolgere attività finalizzate sia alla cura e custode dei luoghi sia di carattere sociale in favore delle comunità di riferimento. Questo quanto stabilisce la nuova legge approvata dal Consiglio regionale. L'atto è stato elaborato dal capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli insieme al consigliere Mario Puppa e emendato in commissione dai gruppi di opposizione. La nuova legge regionale è stata approvata con 33 voti a favore e il voto contrario di Forza Italia. Abbiamo dato centralità nel dibattito a dei territori che pur componendo grande parte della nostra regione sono o si sentono dimenticati. Territori che hanno sofferto e soffrono dello spopolamento e lo spopolamento è sinonimo di abbandono, è sinonimo di degrado ambientale, paesaggistico, sociale. Quindi dobbiamo mettere in atto delle misure che invertono questa tendenza e che consentono di poter rimanere a vivere in montagna, di poter custodire un territorio che è un territorio bello e importante anche per chi abita in pianura. Con questa proposta di legge che è diventata legge noi abbiamo proposto una misura concreta, la possibilità di dare contributi per cinque anni a chi aprirà delle attività economiche o a chi già ce le ha e le vuole riqualificare in montagna sopra 500 metri. Una legge importante a sostegno della montagna dove le persone diventano custodi della loro stessa terra, una terra d'origine che molte volte anche un elemento identitario, culturale, di appartenenza, dei contributi che verranno elargiti alle imprese che nasceranno nelle realtà di montagna o che vorranno ristrutturarsi. Molte volte possono essere anche giovani che scelgono come scelta di vita di aprire un'attività e ne diventano custodi, possono fare dei patti di comunità con le loro città, con le loro montagne e questo sarà un elemento discriminante. un contributo a fondo perduto che può fare la differenza quando nei piccoli territori magari si decide se chiudere una sede cinesca o tenerla aperta o se si decide di investirci. Questo è un elemento di grande novità e quindi noi riteniamo che questa legge che promuove di fatto il sostegno e la vita nelle montagne della Toscana possa essere e dare delle grandi opportunità per tutti coloro che decideranno di aprire una nuova impresa o che decideranno di ristrutturarla o che decideranno magari di trasferirsi o di continuare a vivere. Molti ragazzi e ragazze si sentono custodi delle loro montagne e con questa legge consentiamo loro di realizzare il loro sogno. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.